Quattro anni fa mancò il ballottaggio per appena 300 voti e poi sappiamo come andò a finire, vinse Ferrara del centro-sinistra che sconfisse il favorito del centro-destra di Stefano, coalizzando tutte le forze di dissenso in città, dalle 5 Stelle alla sinistra fino al civico De Cesare. Ad un anno dalle amministrative a Chieti il doc Bruno Di Orio non fa un passo indietro e dà un giudizio del governo Ferrara De Cesare. Credo che sia sotto gli occhi di tutti, della città, ciò che non è stato raggiunto, benché ci siano stati tanti propositi di belle intenzioni da parte del governo attuale. Siamo passati ad una giunta di centro-destra che ci ha portati a un dissesto, ma questo nuovo che si era proposto come nuovo alla luce dei fatti nettamente peggio del vecchio. Lei ha mantenuto sempre le distanze durante questi quattro anni, qualche ammicamento a destra? No, né a destra né a sinistra, perché la mia figura, come questa ipotetica candidatura per le prossime elezioni, di solito chi si canta è il primo nome che viene fuori e quello che viene bruciato. Io non ho problemi di essere bruciato o meno, io lavoro per la mia città, non ho ammicamente nessuna parte. Fino ad oggi non ho visto da nessuna parte idee propense al bene della città, ma sempre personalismi. Lei ritiene che questa volta ci sia lo spazio opportuno per un Diorio alternativo a questo centro-destra, a questo centro-sinistra? Non è questione di Diorio Bruno o altri nominativi. Io sono in linea con quello che abbiamo fatto nel 2020. Ci eravamo staccati perché eravamo disgustati da un certo tipo di gestione della cosa pubblica. Ma se all'orizzonte si prefigurano questi soggetti, quelli del passato e quelli attuali, Diorio Bruno ha il dovere, perché vive a Chieti, lavora a Chieti e ha innamorato di questa città, di metterci la faccia, io non ho problemi. Poi se questa mia candidatura sarà bruciata dopo domani, ben venga, se venga bruciata è una persona degna. Però per il vecchio io sarò sempre lì con il mio gruppo di amici civici per il bene della mia città.